Buonasera amici del Palachicco, siamo qui con Borghetto, autore del gol decisivo. Che match è stato? Buono, abbiamo prestato alti, abbiamo giocato bene, i difensori come sempre alti, abbiamo triangolato, noi li abbiamo fatti salire, li abbiamo tenuti sempre nella loro metà campo, abbiamo giocato bene. A chi dedichi questo gol? A la mia squadra. Ok, due parole sul mister, come ti trovi? Sono molto bravi e un po' strillano, però ci vuole. Va bene, in bocca all'uva. Grazie. Ciao, bello.